Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Oggi Spazio Salute si occupa del tumore al seno. Per parlarne abbiamo con noi in studio la dottoressa Filomena Cinelli, medico senologo in servizio presso casa sollievo della sofferenza e poi per capire anche come si possono aiutare le pazienti che hanno questa patologia è presente sempre in studio Elisabetta Valeri che è presidente dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sezione provinciale di Foggia. E allora cominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Cerchiamo di capire anzitutto anatomicamente come è strutturata la mammella, dove si allocano le neoplasie e poi cercheremo di capire perché. Esatto, innanzitutto grazie veramente di cuore per l'invito perché ci consente appunto di parlare di una problematica quella del carcinoma della mammella che sicuramente ha una rilevanza sociale molto importante. Ma effettivamente che cos'è la mammella? La mammella sappiamo appunto è un organo che è posizionato a livello della parete toracica anteriore, rispettivamente a destra e a sinistra della linea mediana e si dispone all'incirca dal terzo al sesto spazio intercostale. Poggia sui muscoli pettorali, quindi grande e piccolo pettorale, che lo dividono appunto dalla gabbia toracica. Ma la mammella in quanto tale è appunto una ghiandola, cioè la sua funzione è proprio quella di produrre un secreto che è il latte. E questo dove avviene? Dobbiamo immaginare come se la mammella fosse costituita da tanti piccoli lobuli ghiandolari. Sarebbero quelle parti di colore diciamo rossiccio? Benissimo, sono proprio quelle. E sono appunto 15-20 unità all'interno dei quali appunto avviene la produzione di questo secreto. Ora, ogni singolo lobo ghiandolare viene poi ulteriormente suddiviso appunto in tanti piccoli lobuli ed è poi dal lobulo che riparte la struttura a binario che è appunto il dotto. Quindi da un dotto sempre diciamo da prima piccolo, poi sempre man mano più grande appunto la funzione di raccogliere il secreto e trasportarlo dalla ghiandola, quindi posteriormente verso il capezzolo in avanti, attraverso appunto lo sbocco del dotto galattoforo in corrispondenza appunto del capezzolo. In realtà fino alla pubertà la mammella sia nel sesso maschile che nel sesso femminile diciamo non è particolarmente sviluppata. Poi con l'avvento appunto della pubertà sicuramente in base alla stimolazione ormonale quindi di questi ormoni che vengono prodotti dalle ovaie nel sesso femminile vediamo appunto un evidente sviluppo della ghiandola e questo si manifesta perché gli ormoni come vanno ad agire sull'utero determinando appunto il ciclo mestruale allo stesso modo agiscono sulla mammella. Di conseguenza la forma, comunque le dimensioni dell'organo mammario possono essere di per sé poi variabili da individuo a individuo, sia perché dipende dalla stimolazione ormonale ma sicuramente dipende poi anche dal corredo già genetico quindi predisposizione alla formazione stessa della mammella. Ecco abbiamo visto quindi come è fatta la mammella, il tumore dove insorge? Esatto, il tumore insorge proprio nei lobuli ghiandolari o nei dotti ghiandolari e effettivamente per avere una stima di quello che è il fenomeno basti pensare come fino a una donna su otto può ricevere una diagnosi di carcioma della mammella nel corso della propria vita. Per quanto riguarda effettivamente i numeri, quindi renderci conto effettivamente di quanti nuovi casi ci sono ogni anno, basti pensare come nel grafico che vediamo nel 2017 ci sono stati circa 50.500 nuovi casi per le donne e circa 500 casi anche per gli uomini perché non dimentichiamo che comunque è una patologia che nell'1%, quindi una percentuale molto piccola ma può colpire anche il sesso maschile. Per avere un confronto nel 2015 c'erano stati all'incirca 48.000 casi per quanto riguarda le donne e circa 300 per quanto riguarda gli uomini. Stiamo parlando di dato nazionale? Nazionale, in campo esatto, nazionale a livello italiano. Quindi possiamo vedere appunto dal primo grafico come la lineetta in alto indichi proprio il trend di incidenza quindi c'è un 1% in più all'anno di nuove diagnosi. Questo al di là del fatto che aumentano i tumori questo significa soprattutto che le donne sono molto più consapevoli e coscienti di sottoporsi alle indagini diagnostico strumentali e quindi riuscire a identificare con una diagnosi precoce il tumore della mammella. Questo si traduce tra l'altro e dal grafico lo vediamo in una riduzione della mortalità, addirittura un 2,2-2,3% di mortalità appunto in meno all'anno ossia un tasso di sopravvivenza che se andiamo a vedere può raggiungere anche il 90% cioè significa che a 5 anni dalla diagnosi di carcinoma della mammella più di 9 donne in realtà su 10 sono assolutamente vive quindi la qualità anche della vita come sopravvivenza sicuramente è fondamentale e tutto questo quindi diciamo lo possiamo rapportare ed ottenere attraverso la prevenzione. Ora sono stati fatti tantissimi studi a livello diciamo in letteratura medica quindi sia in precedenza ma anche attualmente per riuscire a capire quale effettivamente possano essere le cause di carcinoma della mammella. In realtà una causa vera e propria non c'è. Noi possiamo parlare di fattori di rischio ormonali, riproduttivi, possiamo parlare di stili di vita però effettivamente riuscire a fare quella che è la cosiddetta prevenzione primaria cioè riuscire a evitare l'insorgenza del tumore della mammella non è possibile. Noi possiamo però andare a modificare la storia naturale della malattia andando ad effettuare la prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria altro non è che la diagnosi precoce cioè noi con la diagnosi precoce riusciamo appunto a identificare una lesione nel momento in cui essa è più piccola possibile cioè nel momento in cui essa ancora non ha dato un'evidenza clinica di sé cioè non è ancora palpabile. Vediamo di fatti dal grafico come in realtà dalla prima cellula tumorale al tumore già di un centimetro addirittura possono essere impiegati anche otto anni quindi il nostro compito è di inserirci in questo tempo In questi otto anni Esatto, e riuscire quindi a fare una diagnosi veramente precoce perché? Perché diagnosi precoce significa aumentare sicuramente il tasso di sopravvivenza ma soprattutto far sì quindi che si riduca appunto la mortalità ma nello stesso tempo la sopravvivenza risulta diciamo essere caratterizzata da una qualità della vita nettamente migliore perché se andiamo a diagnosticare e quindi trattare un tumore piccolo sicuramente la donna sarà portata ad un intervento molto meno demolitivo cioè meno mutilante rispetto appunto a una lesione più piccola Quindi tradotto in termini concreti una donna arrivata a X cioè decidere a quanti anni deve fare cosa? Allora fondamentale è iniziare la mammografia le linee guida vogliono che venga iniziata almeno a 40 anni fermo restando che nel momento in cui ci siano molti casi in famiglia è preferibile iniziare prima quindi già a 35 ma in realtà già dai 25-30 anni quindi i pazienti giovani devono sottoporsi ad una visita senologica e a una ecografia della mammella che sono appunto gli strumenti diagnostici che noi abbiamo a disposizione per poter diagnosticare appunto il tumore della mammella Torneremo fra pochissimo anche su questi aspetti della metodica di indagine però prima volevo fare una domanda all'ingegner Valeri perché ho dimenticato di presentarla col suo titolo lei è presidente della sezione di Foggia dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno che ha come scopo non quello di vedervi e dire ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo scampata bella quanto proprio di sensibilizzare, ecco di fare in modo che il concetto che la dottoressa ha espresso poc'anzi passi diventi divulgativo, è così? Allora Landos nasce nel 1976 a livello nazionale quindi con uno scopo diverso inizialmente quindi con la riabilitazione per le donne operate al seno quindi in genere la donna operate al seno che subisce una mastectomia con l'asportazione dei linfonodi tende ad avere un braccio gonfio e quindi si innesca il linfedema e spesso e volentieri questo linfedema sopporta per tutta la vita allora l'Associazione Landos a livello nazionale nasce per questo quindi concorsi di fisioterapisti che lavorano sulle donne operate e che quindi cercano di ridurre questo disagio nel tempo chiaramente si è evoluta come associazione ed è diventata invece un'associazione che si occupa di tante cose fra le quali quest'anno in modo particolare la prevenzione che è prima di tutto siccome la dottoressa Cinelli è qui oggi ma non c'è sempre noi proprio quest'anno abbiamo fatto quello che ha detto lei esattamente vorreste portarla in valigetta esatto abbiamo fatto esattamente quello che dice lei abbiamo fatto questo libretto che è un promuoviamo la prevenzione nella parte interna a parte tutto quello che ha detto lo riportiamo qui quindi che cos'è una mammografia che cos'è un'ecografia poi ne parlerà anche lei dopo c'è questo specchietto repilorativo che non fa altro che dire dai 20 ai 39 anni che cosa deve fare la donna l'ha appena detto autoesame al seno visita senologica ogni due anni dai 40 ai 49 anni autoesame al seno ogni mese visita senologica e mammografia ogni due anni dai 50 anni e oltre che cosa deve fare quindi l'autoesame al seno visita senologica e mammografia ogni anno quindi se ci siamo persi la puntata di oggi possiamo recuperarla attraverso questo libretto c'era dottoressa Cinelli stampata sull'opuscolo e sintetizzata perché chiaro che non è che l'ha fatto l'anno se l'ha fatto l'anno siete stata controllata chiaramente era una senologa e poi il discorso della prevenzione ne parlavamo prima anche dell'inizio della trasmissione è importantissimo e in quanto tante volte una donna in quanto tale capo famiglia oppure moglie in famiglia ci sono problemi economici e spesso e volentieri non si rivolge al medico perché costa tanto allora quello che dicevo nella parte finale del libretto abbiamo dato un suggerimento lo Stato italiano ci permette di fare la mammografia gratuitamente solo la mammografia quindi come esame strumentale con un codice particolare che è l'OD03 noi possiamo dire a tutte le donne con l'età diciamo l'età dai 40 anni in su che possono fare la mammografia senza pagare il ticket facendosi scrivere D03 è chiaro che non c'è l'esame clinico c'è solo l'esame strumentale quindi non è completa la visita però è già molto perché come diceva prima la dottoressa dice già proprio con l'automosintesi riusciamo a prendere delle lesioni molto piccole impalpabili che possiamo prendere la donna in tempo e per evitare che questo calcinoma poi diventi più grande certo, allora abbiamo solo un minuto in questa prima parte poi approfondiremo giusto per spiegare, per accennare alla spiegazione poi vedremo praticamente come funziona la mammografia allora sì, la mammografia risulta essere appunto l'esame diagnostico di base a cui la paziente viene sottoposta sicuramente è un esame diagnostico molto efficace perché ci permette appunto di identificare lesioni anche molto piccole quindi ritorniamo sempre alla diagnosi precoce e soprattutto quindi di capire se la lesione che ci troviamo davanti è una lesione benigna piuttosto che maligna le dosi in mammografia sono ormai veramente irrisorie e quindi questo permette anche mettendo sul piatto della bilancia tra il rischio e l'esposizione delle radiazioni piuttosto che la diagnosi precoce propendere sicuramente per la seconda in realtà l'unico limite che può avere appunto la mammografia è la densità mammografica cioè lì dove ci sono delle mammelle molto dense possiamo avere magari problemi di interpretazione diagnostica ma sicuramente abbiamo a disposizione le nuove metodiche come la tomosintesi o la cesm che ci vengono in aiuto a Spazio Salute stiamo parlando di tumore al seno e poco fa stavamo introducendo i sistemi più avanzati di mammografia che adesso ci verranno presentati da Raffaella Tartaglia che è tecnico radiologo presso Casa Sollievo della Sofferenza vediamo la tomosintesi o mammografia tridimensionale 3D è una tecnica diagnostica all'avanguardia che viene eseguita con questo apparecchio digitale 3D l'esame viene eseguito come un esame diagnostico mammografico bidimensionale infatti la paziente si trova di fronte all'apparecchio vengono eseguite le stesse proiezioni in craniocaudale obliqua di un esame standard l'unica cosa è il movimento della testata del tubo di 15-20 gradi durante l'esposizione in cui vengono acquisite nuove immagini anziché una queste nuove immagini bidimensionali abbassadose vengono poi ricostruite dall'elaboratore dell'apparecchio e si otterrà un'immagine tridimensionale finale come una sorta di video del seno in questo modo possiamo studiare la ghiandola a spessori di pochi millimetri e quindi evitare la sovrapposizione dei tessuti interni che possono mascherare una lesione viene così migliorata con la tomosindesi l'accuratezza diagnostica dell'esame mantenendo comunque l'aumento di dose trascurabile assorbito dalla paziente un'altra tecnica diagnostica eseguita con questo apparecchio digitale è la CESM la CESM va a combinare l'utilizzo della mammografia bidimensionale digitale con il mezzo di contrasto e quindi come risonanza ci permette di visualizzare solo le zone del seno che captano contrasto e che quindi potrebbero indicare una lesione neoplastica e si ottiene un'immagine finale che mostra appunto solo la zona impregnata di mezzo di contrasto del seno anche in questo caso viene migliorata la sensibilità dell'esame mantenendo comunque la dose solo leggermente più alta rispetto a una mammografia convenzionale in 2D Dottoressa Cinelli abbiamo parlato sempre e solo di mammografia è l'unico strumento diagnostico? Assolutamente no, abbiamo molti altri strumenti diagnostici a nostra disposizione innanzitutto ricordiamo appunto l'esame ecografico l'esame ecografico che deve essere sempre accompagnato alla mammografia in quanto appunto ne aumenta l'accuratezza diagnostica quindi con l'ecografia noi riusciamo a caratterizzare ulteriormente un'opacità che riscontriamo appunto a livello mammografico o soprattutto caratterizzare anche un reperto che possiamo identificare all'esame clinico la mammografia può essere utilizzata da sola in alcuni casi come appunto nelle mammelle giovani quindi pazienti con mammelle dense oppure sicuramente nelle pazienti in gravidanza quindi per evitare l'esposizione della mammografia e quindi delle radiazioni ionizzanti ancora può essere utilizzata come primo approccio quindi prima eventualmente di una mammografia magari lì dove ci sono lesioni tipo traumatico tipo un ematoma o piuttosto magari lesioni tipo flogistico tipo una raccolta sessuale che eventualmente potrebbe anche essere drenata di fatti da non dimenticare comunque l'ecografia proprio come guida per procedure appunto interventistiche ma tanti sono appunto anche gli altri strumenti abbiamo visto la CESMA nel servizio quindi la mammografia col mezzo di contrasto ma c'è anche un altro esame col mezzo di contrasto che è sicuramente la risonanza magnetica la risonanza magnetica è uno strumento molto potente che ci permette di andare appunto a identificare lesioni anche molto piccole e lo facciamo appunto col mezzo di contrasto quindi noi attraverso il mezzo di contrasto possiamo andare a studiare la vascularizzazione quindi creare una sorta di mappa vascolare della mammella in questo caso quindi noi andiamo a vedere se c'è una lesione se soprattutto ce ne sono eventualmente altre accanto alla lesione principale se interessate eventualmente la mammella controlaterale e questo sicuramente al chirurgo prima di un intervento facilita non poco il planning appunto dell'intervento e quindi chirurgico ancora poi la possiamo utilizzare magari anche nella cosiddetta chemioterapia neadiuvante lì dove c'è a volte una lesione tumorale molto grande facendo la chemioterapia prima dell'intervento cerchiamo di ridurla e quindi andare incontro ad un intervento molto più conservativo allo stesso modo la risonanza può essere usata magari per differenziare una diciamo cicatrice quindi un tessuto fibrocicatriziale da una ricidiva quindi sono veramente tante ma al di là della mammella cosiddetta diciamo patologica la risonanza la possiamo utilizzare anche nella mammella di per sé sana cioè comunque per avere la conferma che una mammella densa quindi magari di difficile interpretazione diagnostica sia effettivamente libera da lesioni oppure nelle pazienti elevato rischio eredo familiare che sono quelle pazienti che magari hanno una elevata familiarità oppure portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 che sono collegate ad un aumento dell'insorgenza appunto del carcioma della mammella quindi in questo caso secondo appunto le linee guida internazionali la paziente deve sottoporsi con una certa periodicità quindi una volta all'anno alla risonanza risonanza appunto ricordiamo deve essere sempre fatta con il mezzo di contrasto l'unica indicazione in cui non utilizziamo il mezzo di contrasto è solo per lo studio protesico cioè per studiare l'eventuale presenza di una rottura intra o extracapsulare appunto di una protesi ma in realtà altri strumenti diagnostici soprattutto poi nel momento in cui vi è un dato clinico come per esempio quello della secrezione possono essere eventualmente anche la cosiddetta duttografia può capitare soprattutto al termine dell'esame clinico allora noi durante l'esame clinico quindi sicuramente andiamo a raccogliere l'anamnesi della paziente quindi cerchiamo di capire se lei è stata operata, lei o delle parenti andiamo a ispezionare la mammella effettuiamo l'esame clinico quindi come appunto l'autopalpazione che normalmente dovrebbero fare appunto tutte le donne è un altro strumento di prevenzione esatto, è sicuramente un altro strumento diagnostico sicuramente non di diagnosi precoce però è veramente importante perché la donna attraverso l'esame clinico riesce a conoscere la propria fisicità cioè la propria mammella e soprattutto a essere consapevole sia delle mutazioni fisiologiche che avvengono durante tutto il cosiddetto ciclo fertile quindi durante le varie fasi del ciclo mestruale durante la gravidanza, durante l'allattamento ed è importante che la donna sappia fare effettivamente l'esame clinico questo perché comunque diciamo riesce poi eventualmente anche ad individuare delle modifiche quindi cambiamenti non perfettamente fisiologici e di fatti quando viene appunto eseguita l'autopalpazione la donna appunto con la mano diciamo sdraiata con la mano dietro la nuca il gomito ben aperto e l'ascella ben distesa deve andare a palpare appunto tutta quanta la mammella immaginando come se fosse una sorta di orologio quindi dalle ore 12 iniziamo con la mano controlaterale mano ben distesa e dita a piatto con i polpastrelli va a effettuare una compressione quindi su tutta la mammella dalle ore 12 alle ore 3 alle ore 6 alle ore 9 ritornando alle ore 12 andiamo a palpare anche l'ascella perché può essere sede di adenopatie che molto spesso sono una prima spia di un carcinoma della mammella non dimentichiamo il prolungamento ascellare sotto l'ascella il solco sotto la mammella e il solco tra le mammelle e alla fine una lieve premitura del capezzolo da cui eventualmente può fuoriuscire una secrezione che quindi è necessario andare ulteriormente ad indagare come la possiamo indagare? sicuramente attraverso un vetrino quindi raccogliamo questa secrezione la facciamo analizzare con un esame citologico ed eventualmente se dovessero essere invenute delle cellule atipiche possiamo andare con la duttografia la duttografia è praticamente un esame in cui con un'agoma a punta smussa si entra all'interno del forellino quindi il famoso dotto galattoforo che fuoriesce sul capezzolo da cui fuoriesce questa secrezione iniettiamo il mezzo di contrasto se il dotto viene completamente opacizzato appunto non vi è materiale ma se come in questa immagine vediamo anche indicato dalla freccia un minimo cosiddetto difetto di riempimento vuol dire che lì c'è il materiale che è responsabile della secrezione ora da quello che ci ha detto è chiaro che il primo approccio terapeutico è di tipo chirurgico visto che ha parlato spesso del chirurgo e poi ha parlato di chemioterapia adiuvanti allora diamo la parola al chirurgo godiamo la parola al dottor Roberto Murgo che è direttore dell'unità di chirurgia senologica di Casa Solleva della Sofferenza Le pazienti si rivolgono al reparto di chirurgia senologica dopo una diagnosi di tumore alla mammella vengono da noi per essere trattate perché questo tumore venga asportato perché venga esaminato e perché alla luce dei risultati venga continuato il trattamento dopo la chirurgia con le terapie mediche successive il primo passo dunque il più delle volte è il trattamento chirurgico il trattamento chirurgico che prevede l'asportazione del tumore o dei tumori quando sono più di uno che può essere fatta con un intervento conservativo con il quale si conserva la mammella e si porta via solo una parte della mammella o con un intervento demolitivo che è la mastectomia oggi per fortuna le mastectomie non incutono più la paura che fino a qualche anno fa incutevano alle donne perché questi interventi sono sempre seguiti o accompagnati da una ricostruzione per cui la paziente una volta sottoposta a questo intervento esce dalla sua operatoria già con una ricostruzione o completata o avviata finito il trattamento chirurgico i risultati ci consentono di portare la paziente al meeting multidisciplinare che con gli altri colleghi ci consentirà di stabilire il programma terapeutico successivo e quindi dopo aver parlato anche dell'ultimo aspetto quello terapeutico per per le donne che hanno riscontrato un tumore al seno chiedo all'ingegnere Elisabetta Valeri Presidente lo ricordiamo dell'Associazione Nazionale Donne Operati al Seno sezione di Foggia cosa è stato fatto dalla sua sezione nello scorso mese di ottobre visto che ottobre è stato individuato proprio come il mese internazionale della prevenzione per il tumore al seno torniamo quindi alla prevenzione Allora il primo evento che abbiamo organizzato è stato nella cooperandos l'abbiamo chiamato cooperandos perché l'ipercop quindi la cooperativa dove sta a Foggia dove c'è l'ipercop ha organizzato ha sentito la necessità di promuovere la prevenzione al seno e quindi abbiamo fatto un incontro con tutte le radiologhe dell'ASL quindi noi abbiamo una prevenzione che si divide in due settori prevenzione primaria ne accennava prima la dottoressa quindi con alimentazione e stile di vita e prevenzione secondaria questa diciamo strumentale nella prevenzione primaria noi che cosa pensiamo pensiamo a come dobbiamo mangiare a che cosa dobbiamo fare per vivere bene quindi soprattutto lo sport quindi in questo mese che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto delle camminate camminate a Piramonte Corvino a Manfredonia per diffondere la cultura prevenzione quindi come stile di vita poi sempre con l'ipercop il 5 di ottobre abbiamo incontrato degli esperti di alimentazione sull'alimentazione a chilometro zero che ci hanno insegnato che cosa mangiare e che cosa non mangiare però nella riunione precedente quindi quella del 29 settembre abbiamo presentato questo libretto dove in realtà queste senologhe dell'ASL hanno spiegato lo screening perché noi possiamo fare prevenzione se facciamo lo screening quindi se aderiamo ai programmi screening regionali la regione Puglia prevede una campagna di screening per le donne dai 49 ai 69 anni che praticamente vengono chiamate randomizzato questa chiamata e devono essere sottoposte a mammografia in cieco purtroppo in regione Puglia siamo partiti nel 2007 in provincia di Foggia nel febbraio 2017 quindi molto da molto poco tempo e le donne spendono molto poco quindi l'invito come associazione è quello di rispondere a questo programma di screening perché l'ASL sta lavorando sta lavorando bene e anche questo viene riportato nella parte finale del libretto come viene riportato come fare l'autopalpazione perché la dottoressa Cinelli non ce l'abbiamo nella borsa e quindi nel libretto sono riportate le linee guida per fare l'autopalpazione per cui per tutto ciò che non siamo riusciti a dire nello spazio nel tempo che è volato letteralmente di questa trasmissione questo libretto può essere utile da ricercare e da leggere grazie alle nostre due ospiti grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito grazie a tutti grazie a tutti